Dunque, Nicolas Lanzoni, vicecapitano opposto, schiacciatore, chi più ne ha più ne mette, insomma puoi fare tante cose, le fai tutti bene, ma soprattutto penso che sia bello descrivere e commentare quella che è stata una prima vittoria in campionato da parte del Laghezza, veramente bella no? Sì, abbiamo affrontato una squadra non di grosse qualità, però ci ha dato comunque un buon filo da torse, abbiamo portato a casa tre punti che sono stati importantissimi, visto la sconfitta che abbiamo attraversato a Forlì, comunque abbiamo affrontato una buona squadra e ci stava, ci siamo dovuti adeguare, comunque abbiamo dovuto cambiare formazione, visto l'infortunio di Marco Cerqueti, la nostra seconda banda, ha avuto un infortunio a dito, quindi dovrà stare fuori un mese, ma ci siamo adeguati al meglio, ci siamo allenati e abbiamo portato a casa. a casa tre punti importanti, soprattutto per il morale. Certo, quindi prima vittoria in campionato, è importante adesso continuare su questa falsariga intrapresa contro Perugia, ora vi attende però una trasferta a Cesena e dunque vediamo di non bissare la trasferta ad esordio, giusto? Penso che sia il proposito che vi prefiggetelo. Sì esatto, affrontiamo un'altra trasferta e comunque andiamo a affrontare l'ultima in classifica, dove ho affrontato due squadre abbastanza forti, quindi importanti, anche loro vorranno riscattarsi, faremo abbastanza chilometri, quindi sarà importante mantenere la concentrazione e cercheremo di fare tre punti per continuare il nostro percorso al meglio.